Aio, no 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 first let me take a selfie Bello felice ragazzi, Quigettingmi sta parlando oggi siamo qua su, su, dove siamo? su minecraft siamo qua per la seconda volta sul canale con minecraft Quindi, creiamo un nuovo mondo, lo chiamiamo GG, va bene, GG, sopravvivenza, difficoltà normale, partito online no, grazie, non so cosa siano perché ho detto, ci ho giocato pochissimo, cioè a parte quel video, ci avrò un'ora di gioco, cioè a parte il video, vabbè, un vecchio video di qualche mesetto fa, sarà stato tipo ottobre, settembre, appunto, non ho, cioè, avrò un'oretta di gioco in totale, quindi veramente molto, molto poco. Quindi, sicuramente non so un cazzo. Bene, bene. Allora, uh, fiorellino, cioè sempre utile il fiorellino, let's go. Il mondo va a scatafascio. Prendiamo un po' di terra che può sempre essere utile. Io vi dico, le mie conoscenze di Minecraft sono molto, molto basse. Quello che so è tipo, mi ricordo, la sabbia, se vuoi ci scavare sotto, vi cade addosso. E questo è già un grande passo per l'uomo, ma un piccolo passo per Minecraft. Ehm, poi ecco, vi posso avere tipo il legno, no? Cioè, le piccole cosette le so, ma proprio piccole, piccole, piccole. Troviamo tipo un luogo carino, ma no, però non voglio la neve, mi dà il cazzo la neve. Mamma mia, io voglio l'estate in Minecraft, guardate come sembra tutto inverno. È brutto. Cioè, in GTA è fico. Ma qua non mi piace la neve, te lo giuro. Quindi, io direi, prima cosa, dobbiamo trovare un posticino per crearci un piccolo, piccolo riparo. Sabbia può sempre essere... sabbia sarà tipo per costruire il vetro. Quindi è utile. Cioè, io adesso mi metto a fare le guide di Minecraft, che non ci so giocare. Pensate un po', mamma mia, che troplayer. Assurdo. Sì, ne avessi preso uno, sì. Ho preso un cubetto di, 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 beh, di robo su 20.000 che ne ho scippati al marocchino. Comunque, lo eccolo, quello. Sì, sì, il mondo normale. Let's go. Allora, ci siamo. Questa zona mi piace. È allettante. Quindi... Ok. Quindi, ma tipo una casa sulla spiaggia, no? Che ne pensate, buon baffanculo? Allora, costruiamo qua un po' di terra. Super resistente. E, ehm, che poi manco ci basta la terra mastica. Uh, rottiamo anche un po' di sabbia, no? Cioè, ecco così, vai. Mamma mia, ecco. Abbiamo finito. Questa, best casa EU. Ecco qua, con un piccolo ingresso. Va benissimo. No, vediamo tipo... Mmm, no. Opzioni host? Che fai? Imposione incendio. Bottino nemico. Regenzione naturale. Va bene. No, crafting. Ecco qua, crafting. Vediamo come costruire un tavolo da lavoro. Riservano quattro gobletti di legno. Prendi il legno, rompi il legno. Prendi il legno, rompi. Tipo... Zitto e nuota. Nuota e nuota. Basta. Cioè, facendo questa cucina di merda, mi sono delle lacrime. Perché? Beh, evoca tanti ben ricordi, Nemo. Oh mio beo. Comunque, andiamo avanti. Prendiamo il giusto legno. Se voi avete in mente qualche... Cioè, voi qualsiasi cosa vogliate che io faccia, voi scriverete nei commenti. Poi aspetta, però... Assicuriamoci che sia questa la roba che ci serve, perché non mi va di tornare qua. Tanto ci devo tornare per osti cazzi. Quello è il legno, vero? No, non è il legno. È qui... È questo. E quindi? Ehm... Beh? Allora. E come facciamo? No. Io rimango... Ehm... Stupefatto. Ehm... Ah. No. Cazzo serve qua? I cosi di legno? No, questi, no. Sono... Sono... Guarda che miseria. Sta merda, ma vaffanculo. Ecco qua. Tauro da lavoro. Boom baby. E mo? Poi... Crea panche. Mamma mia. Ma quanto scopriamo adesso? Allora. Ehm... Questo... Ehm... Quindi... Aviamo... Dov'è? Eccolo. Questo qua. Ne creiamo... Ne creiamo... Alt, alt... Affanculo sì. E il bastone. Creiamoci il bastone perché è sempre overpower. Bene. Ehm... Poi... Tavolo da lavoro ce l'abbiamo. No. Qua... Ah, tipo... La... La... La roba. Ah, no. Dal tavolo da lavoro si dovrebbe creare. Tipo il piccone e roba così. Quindi... Andiamo a Catuccia Bella. Allora. Quindi. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Ah, 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 ah. Ecco qua. Cioè, guardate la nostra casetta? Qua si distingue. Si distingue. Dov'è? Oh, figa. Fiera. Guarda. Ah, eh. Ehm. Ehm. Boom, baby. Bello. Top player. Ho fatto le cose a merda. Mamma mia. Allora. Se è vero il bastone? No. Per carità. Quindi. Noi entriamo qua dentro. E boom. La nostra casetta selvaggia. Siamo, siamo, siamo. Troppo forti. Quindi dovrei dipiazzare qua. No. Qua all'angolino. All'angolino. Il tavolo da lavoro. E cosa facciamo? Siamo sul tavolo da lavoro. Ci creiamo un bel piccone. Che si crea qua. Va qua così. Adesso. Il miglioro. Cioè. Voglio dire. Roba d'alta classe qua. Poi che cosa? Ah, la spada ci potrebbe servire. La spada. La spada. Poi la torcia. No. Il letto. Il letto. Qua. Mille trofei. Ragazzi. Vedete? Non ci ho giocato con un cazzo a questo gioco. Guadagno i mille trofei. Allora. Ehm. No. No. Il letto. Il letto. E dove si trova? No. Qual era tipo la barca? Il letto. Cazzo. Il letto. Ci serve la? E perché non ti dicono? Cioè. Tu devi andare a figure. Voglio dire. Cosa ci serve qua per fare il cazzo di letto? Non lo sappiamo. Insomma. Abbiamo la spada. Facciamo il punto della situazione. Oh. Terra. Costruiamo un pochettino qua di casetta. Proteggiamoci. Il nostro bel coso. Tipo il vetro. Facciamo il vetro. Facciamo il vetro. Allora. Il vetro come si fa? Ci creiamo una bella casetta. Raga. Prima. Il primo step è la casetta. La porta. La porta. Io direi che una sana porta serve a tutto il mondo. Perché ne beneficia. La stavo distruggendo. Benissimo. Abbiamo detto la casetta. Quindi. Facciamoci la casetta. Come si fa la casetta? Il vetro. Voglio crearmi il vetro. Per le finestre. Questo neve. Voglio creare una neve. Mamma mia. Mattone del no. Bastone. No. 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 Forse l'altro c'era. No. 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 Qua. 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 No. Bene. Let's go bitches. Ah. Il forno. Ah. E questo che cos'è? Non è tutti gli ingredienti. E come si trovano quei cosi? Quei robbi? È tipo. Ah. Ah. Sì. Me lo ricordo dalla demo. Si trovano tipo sottoterra. Quindi. Andiamo. A forza di piccone. È notte. È quasi notte raga. Ma sti cazzi. Noi affrontiamo tutto. Tutto e tutti. No. Il letto. Il letto come si crea. Andiamo così nel letto. Paura. Ma incontriamo dalla porta. Vai. Ehi. E poi l'ho sbagliato. Vaffanculo. Oddio. Ho visto un creeper. Mamma mia. No. Ah. Porca la puttana con la zoccolona. Chiudi. Ma. Perché? Ti aiutate. Perché? Ti uccidono. Vai sotto. Scava scava. Scava scava. Via via via. Vai. Nasconditi. Nasconditi. Vai. Giù. E' buio. Attenzione. Non manco le cuffie. Quindi non sento. Un cazzo. Allora. Non si avvista un nemico all'orizzonte. Attenzione. Attenzione. Allora. Se non facessimo tipo. Usain Bolt. Oddio. Scheletro. Via. 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 Voglio dormire. Cazzo. Un albero. Gaffanculo. Moriamo. No. Creeper. Creeper. Vai dentro. Giù. Nel blu. Dipinto di blu. Eh. Mamma mia. Su. No. Oh. Che cos'è? Che cos'è? Ecco. Ahia. 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 Perché c'erano zombie? Ahia. Via. Oh. Oh. Mi. Ah. Ah. Dov'è la nostra casa?